Piani di emergenza, coordinamento tra enti e volontari, il ruolo dei sindaci nella gestione del territorio anche in caso di calamità naturali. Temi affrontati all'overo al centro di formazione dell'Associazione Volontari di Protezione Civile del gruppo A2A. Non è voluto mancare il prefetto di Sondio, Salvatore Pasquariello. Lei in questi giorni ha lanciato un appello ai comuni alla partecipazione e anche alla revisione dei piani di emergenza. Sì, ho fatto un giro presso le comunità montane, sono quasi al termine e ho richiamato l'attenzione di tutti i soggetti istituzionali al tema della protezione civile. Quindi necessità di dotarsi di piani oppure di aggiornarli, necessità di avere disponibili dei volontari che facciano parte di un gruppo comunale di protezione civile, necessità infine di avere una sala operativa comunale, il cosiddetto centro operativo comunale, il COC, che è uno strumento necessario in caso di emergenza. Noi oggi abbiamo radunato insieme alla protezione civile del gruppo dei A2A, abbiamo radunato i sindaci e gli amministratori proprio per intraprendere un percorso di conoscenza, di condivisione delle tematiche, in modo tale che nel momento in cui ci dovesse essere bisogno di affrontare qualche emergenza, ci siano quelle conoscenze, quelle capacità e quel coordinamento che è necessario per affrontare nel migliore dei modi le situazioni difficili, che in montagna possono accadere più facilmente che in altri luoghi. L'esperienza ci ha insegnato che il nostro territorio è fragile, ricordo l'alluvione dell'87 ma non solo. Devo dire che in Vartellina però c'è uno spirito di volontariato, probabilmente anche dovuto a questo, molto presente tra la cittadinanza, sono molti i volontari della protezione civile, certo è che poi è necessario che ci sia un coordinamento, per questo esiste il coordinamento della provincia, c'è la protezione civile A, la protezione civile dei comuni, ma poi c'è anche la colonna mobile della regione, ci sono i ruoli sia del sindaco in caso di emergenza, c'è il ruolo della prefettura, i ruoli di tutti gli enti. Siamo adesso 124 persone e siamo distribuiti tra Brescia, Bergamo, Milano e la Valtellina per cui Sondrio. Principalmente è composto da circa il 70% da dipendenti o ex dipendenti del gruppo 2A. L'associazione è nata addirittura nel 1976 e ci ha visto e ci vede tuttora legati ad ogni operazione importante di protezione civile. Noi facciamo parte della colonna mobile di Regione Lombardia e siamo anche tra le associazioni di riferimento del Dipartimento Nazionale.